Perché noi siamo una città aperta, inclusiva, che sostiene e vicina la comunità LGBT+, in questa giornata di orgoglio, di festa e anche di battaglia per rivendicare i diritti a tutti e contrastare ogni discriminazione. È il tempo che quel paese, che l'Italia faccia un passo avanti e si metta a livello degli altri grandi paesi europei. Ci sono tante cose da fare, quindi noi ci siamo, c'eravamo, ci siamo e ci saremo. E' una polemica assurda perché è un atto doveroso, come è chiarito la Corte di Cassazione. Stiamo parlando di una fattispecie assolutamente prevista, possibile, avviene in tante città, quindi è una polemica assurda.